Ciao, sono Cinzia, una delle insegnanti di posturale della Juvenia. Oggi vi darò qualche piccolo consiglio su come portare avanti il lavoro che di solito facciamo in sala. Spero che ciò vi possa essere utile e ci vediamo presto. Allora, andiamo a sentire bene la verticalità del corpo e sentiamo bene l'appoggio su tutte e due gli arti. Quindi dobbiamo cercare di capire come distribuiamo il peso corporeo. Innanzitutto il peso corporeo deve essere distribuito su tutta la lunghezza del piede ed equamente su tutte e due le gambe. Quindi ci deve essere una distribuzione omogenea sia sull'arto destro che sull'arto sinistro. Dobbiamo sentire bene l'appoggio del tallone interno e del tallone esterno e tutte e cinque le dita dei piedi ben allineate e non aggrappate nel pavimento. Trovata la distribuzione del peso corporeo, dobbiamo sentire bene l'estensione del corpo verso l'alto. E inspirando ed espirando, vi metto in questa posizione in modo che potete vedere meglio, andiamo a fare la prima flessione del busto, quindi distribuzione del peso corporeo, estensione verso l'alto, inspiro ed espiro un paio di volte e poi iniziando dalla testa scendo in flessione dei piedi. In questa prima flessione del corpo dovrò fare molta attenzione ad avere le anche allineate sulle caviglie, le spalle in linea con i polsi e la testa nella distanza tra le due mani. Man mano che sono qui respiro, abbandono la testa e rimarrò in questa posizione dai tre ai cinque minuti, non di più. Poi con controllo saliamo e ci andiamo a sdraiare. In questo momento io mi sdraierò a terra tenendo le gambe libere. Per voi sarà meglio poggiare le gambe addosso alla parete, quindi farete la stessa cosa con il sedere attaccato completamente nella parete. Quindi ci sdraiamo giù. Per voi il sedere è attaccato alla parete e le gambe nella verticale. Una volta che sono nella verticale vado a sistemare i piedi in flessione, dorso della mano a terra, il mento verso il petto e vado a cercare bene l'apertura delle spalle. La cosa più importante in questo momento è la respirazione, quindi inspiro dal naso in maniera naturale, espiro in maniera profonda dalla bocca facendo scendere bene il petto e la gabbia toracica verso il basso. Rimango in questa posizione per almeno 5 minuti, curando bene la respirazione, sentendo bene la spinta delle braccia che parte da dentro la schiena, l'appoggio del sedere, il mento verso il petto, il coccige ben abbassato. Dopo i primi 5 minuti andiamo ad effettuare una rotazione della testa. Faccio attenzione che nella rotazione della testa il mento non si attacchi alla spalla ma che rimanga ben allineato sul suo asse. Rimango altri 5 minuti qui, mi riposiziono nel centro, qualsiasi cosa sento che sia disallineato o che ho bisogno di aggiustare lo faccio in questo momento. E faccio la stessa cosa sull'altro lato, quindi controllo che il mento non sia vicino alla spalla ma che sia dritto bene sull'asse, la spinta delle braccia dal dorso ma soprattutto continuo a curare la respirazione. Passati 5 minuti ritorno con la testa nel centro, riallinio qualsiasi cosa di cui ho bisogno e senza staccare le braccia dal tappetino le faccio camminare nel parquet e le porto entrambe nella diagonale alta. Devo avere le braccia bene spinta dal dorso, i gomiti abbassati e tutte e 5 le dita della mano ben aperte nel pavimento. Qui, ancora più di prima, la respirazione è molto importante, soprattutto nella sua fase di espirazione, quindi cerchiamo di far scendere bene il petto e la gabbia toracica durante la fase di espirazione. Altri 5 minuti qui. Al termine di questi 5 minuti abbassiamo le gambe e andiamo in recupero. Ci diamo un attimo per recuperare. Quando ce la sentiamo saliamo su. Possiamo fare un piccolo stretching per decompensare. Quindi ci mettiamo in ginocchio con i piedi vicini, ci sediamo nei talloni, le ginocchia separate. E andiamo a fare prima un piccolo stretching avanti, sentendo sempre bene la spinta del sedere indietro e la testa in avanti. Dopodiché, se possiamo, mani nei talloni e centro della testa nel tappetino. Ritorniamo su. Il tempo qui è a secondo di quanto vi fa piacere rimanere in questa posizione. Ritroviamo la verticalità del corpo, sentiamo bene l'estensione verso l'alto, la distribuzione del peso corporeo, che prevede sia la distribuzione su entrambi gli arti che l'appoggio su tutta la lunghezza del piede. Inspiriamo ed espiriamo un paio di volte e poi, iniziando dalla testa, di nuovo giù. E proviamo a vedere, come abbiamo fatto nella prima flessione, se rispetto alla flessione iniziale abbiamo guadagnato qualcosina in più. Teniamo questa posizione per 3-5 minuti, non di più. E poi con controllo ce ne torniamo su. Un piccolo lavoro che vi prenderà al massimo una ventina di minuti, ma che nell'allungamento quotidiano vi dà una grossa mano. Io vi ringrazio e ci vediamo alla prossima lezione. Grazie.